Musica Non riusciamo comunque arrivare a recuperare 74 Eccoci qua amici Mattia Soldati Alan Robba Redoclio RS Siamo nella N3 Di fatto saliamo e cambiamo categoria Avete portato la pioggia ragazzi State pronti? Bene Sotto il diluvio Qui in piazza Camur Pronti a partire Soldati Robba Boti stenti Devo fare anche attenzione Ficché non si bagni La documentazione cartacea Della Addetta al servizio con lo vetraggio Ma Non Sotto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.